Ciao a tutti, benvenuti in questo nuovo video, oggi siamo qua sui minigame di Minecraft oggi voglio registrare dei minigame, ho detto di registro perché mi piacciono un sacco, come voi sapete, mi diverto un botto una piccola cosa che non sapete di me o che sapete stamattina, visto che con questione avevo risposto a messaggi su Instagram, su Facebook ho risposto a tutti i messaggi che mi erano arrivati su Facebook e su Instagram non sulla pagina Facebook, anzi perché lì mi dà problemi nel rispondere, si bugga ogni cosa i commenti ancora non mi sono messo in pari, sto rispondendo a qualche commento quando mi capita di leggerlo e niente, comunque sia tra Facebook e Instagram, ho risposto a 472 chat ieri sera così, tanto per dire, niente, per chi mi dice magari non rispondi mai, te la tiri, lo faccio in realtà comunque niente, adesso andiamo a registrare questo minigame allora ragazzi, come vedete ho 7200 gemme, perché qui c'era un tutorial, vedete e se tu lo fai, ti danno 5000 gemme quindi se voi giocate su Mineplex, fatelo allora, cosa giochiamo oggi? oggi vogliamo fare cosa vogliamo fare oggi? a Castel Sismo ha fatto schifo, ogni volta l'ho fatta ma c'è un bloccant mai fatta ah ragazzi ce ne manca a dirvi, oggi non è uscito anzi questa settimana è uscito solo un episodio della serie principale perché in realtà ho avuto altre cose da registrare, altre cose da far uscire sul canale e in tutto questo, nella programmazione, mi ero scordato di far uscire il secondo episodio della serie principale di Minecraft quindi questa settimana uscirà uno domenica oppure ne uscirà uno, non lo so, quando forse anche domani, non lo so e poi settimana prossima usciranno due, se me lo ricordo ricordate, non ha nei commenti sono un cacciatore suppongo che loro debbano nascondersi perché hide vuol dire nascondersi nascondere, penso in questi 15 secondi e poi dobbiamo cercarli e ucciderli abbiamo tipo tutto tempo suppongo esatto, 6 minuti allora, cerchiamo di trovarli in pratica è nascondino se putato c'è qualche maiale che fa qualche movimento stanno tipo questo sta lontano dal branco ok no lui che guardava, no e qualche maiale particolare noi lo troveremo cioè, tipo quel pollo lì, no si sta allontanando un po' troppo dalla massa cioè perché ci sono due, due, due scuole di pensiero, no io posso nascondermi e fare il pollo in mezzo ai polli e a quel punto però che cosa succede aia da dove arriva le frecce? cazzo mi tiri le frecce? eeeh oh oh, che cos'è questa roba? oh, oh, ah, è questa chest qui ok si può nascondere anche la chest ci si può nascondere anche la chest? vabbè, non lo sapevo vabbè, dettagli ci sono due scuole di pensiero o ti nascondi un po' talmente ovvi che anche la gente dice no, vabbè, non può essere perché è sparita? allora, secondo me e questo c'è spuglio qua? no c'era qualcosa che mi sparava le frecce ragazzi che cavolo era? se le tirava da qua sarà, boh tipo lassù questo gioco è difficile trovarli tutti, eh tipo quel pollo lì per me è sospetto devo solo capire da dove arrivano le cavolo di frecce a casa sul tettino, dai che fai? non ti metti sul tetto? ah, tra l'altro quando tu muori ti trasformi in un hunter se me è un blo... ehi ehi da dove? da dove? da dove? da dove? i vasi? i vasetti di merda i vasetti a merda i vasettini come si fanno a trovare? cioè, sono piccolissimi minchia lui ha tirato la dinamita e ha detto, sai che si fa prima? tipo un vasetto qui dimmi a farcire a trovarlo chi sei? oh, 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 che fai? che fai? spacca tutto vieni, vieni, vieni via allora torte torte, torte un'anguria un'anguria, dai un'anguria per sempre oh, sono di qua secondo me qua c'è qualcuno il vasetto mi pare un po' meschi questo sarebbe troppo bastardo oh, oh, oh lui, lui cavolo, lui ci stava in realtà se dovessi mettersi vicino allo spawn è la cosa migliore ok 5 dobbiamo vincere noi ragazzi se no è maiale cioè io voglio vincere tra l'altro ne ho anche ammazzati i due e gli faccio un bordello di punti tnt polletti maiali ok help eh, help che cazzo help simpatico tu sei ok, un polo in acqua un polo in acqua no il grano se si può nascondere dal grano ah, uno dei nostri addirittura è morto cioè, vabbè non può essere un'anguria qui saresti decisamente stronzo hanno vinto loro no, voglio sapere dove sono voglio sapere dove dove era questo è lui? è lui? era lui? cioè ragazzi ce l'avo accanto io praticamente ma guardate figo però questo mi piace ok stavolta sono ah, ok no no ragazzi madonna quanto si è stronzi a fare così ok, devo trovare un legno decente tipo così no così si vede che è finto che poi è brutto è che devi stare proprio fermo devi stare no, gli hunter sono stati realizzati uh uh capito 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 però no qui non si vedono i cattivi io voglio stare qui non posso diventare un cubo solido lì perché? veniva scritto ma non pensavo fosse niente vabbè io non ho non ho alcuna parola porca troia ah sono un hunter ok cazzo cioè perché non posso diventare un cubo lì cioè scrivete le regole perlomeno però entri a so dove sono gli altri uno era un incudine uno sono sicuro oh ah ok no ok era un cattivo era c'è il 2000 vasetti quella pecorea qui non esiste nemmeno è una pecorea davvero minchia johnny c'è tutte le incudine dove cavolo sono questo maiale qua tre minuti per trovare anche l'ultimo che secondo me questa tovertà potrebbe essere un valido cattivo no oh si è vinto io ho fatto anche una kill dai ah ma tanto vincano comunque le si nascondono non so capito bene comunque ragazzi questo video volge al termine sono fighe le frasi che le sono create col mio personaggio cioè ovvero io sono sbucci e dico comunque ragazzi il video di oggi termina qua oppure il video di oggi volge al termine poi dico il ciao nini dico il per questo video è tutto da sbucci è tutto questo video ciao nini sono fighe queste frasi già insomma nel senso sono fighe le frasi che potessi vanno a calzare a pennello e ti senti tue comunque dicevamo che il video volge al termine spero che questo minigame vi abbia fatto divertire scrivetemi dei server per i minigame o dei minigame specifici da fare e li farò comunque vi invito a lasciare un bel mi piace se ti è piaciuto il video un bel mi piace per supportarmi su questa piattaforma chiamata youtube un non mi piace se non ti è piaciuto il video un bel commento per aiutarmi a crescere iscriviti se ancora non l'hai fatto i miei social sono qua sotto in descrizione noi ci vediamo al prossimo video da sbucci è tutto ciao nini iscriviti se ancora non l'hai fatto iscriviti se ancora non l'hai fatto ciao ciao